Ho scelto il cinema perché mi permette di dire ciò che penso della vita, forse un orgoglio un po' maschile, ma io so che mi sono guadagnato tutto senza mai avere una raccomandazione, una spinta, una parola o una telefonata per Francesco Favino. Ecco, un'altra parola chiave che vorrei condividere con voi quest'oggi è proprio questa, la resilienza e quindi veramente scoprire quelli che sono i talenti e poterli mettere a servizio degli altri. La voce che si sentiva in giro è arrivata una nave, una nave, una nave, andiamo a vedere la nave, andiamo tutti a porto, a un certo punto vedi la nave era enorme, ricoperta di persone, cioè non si vede quasi la nave. Dobbiamo essere in grado di capire chi ci abbiamo di fronte e se siamo, voglio dire, in una posizione positiva e il compagno di scuola, la vigo di scuola ha bisogno di aiuto, così come nella vita va aiutato con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. L'accoglienza del diverso, quello che ha appena detto Sergio, non fare differenze fra uguali, ma valorizzare le diversità, è quello che c'è scritto nella Costituzione. Grazie. 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 Grazie.